Con decreto del Presidente della Provincia, il 31 luglio scorso sono state ufficialmente indette le elezioni di secondo livello per il rinnovo del Consiglio Provinciale del Verbano Cusio-Ossola. La data fissata è domenica 29 settembre 2024. I seggi saranno aperti al Tecnoparco dalle 8 alle 20. Queste elezioni, riservate ai consiglieri comunali e ai sindaci dei comuni del VCO, rappresentano un momento centrale per... Sagra della Patata, a Monte Crestesi da giovedì 22 a lunedì 26 agosto, la trentesima edizione. Tutte le sere dalle 18.30, apertura del ristorante con servizio ai tavoli. Spettacoli, danze e spazio giovani. Ti aspettiamo!